Ciao, benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'analisi ciclica volttime e ovviamente l'analisi tecnica per quanto riguarda il Fuzzimib. Diamo il via alla sigla del canale e poi ci sarà un'interessante analisi da fare sul time frame giornaliero con il ciclo da 18 mesi. E' un interessante spunto da un punto di vista tecnico e avrò da spiegare ovviamente alcuni concetti per quanto riguarda la varianza e quindi capirai perché questo canale l'ho fatto partire prima rispetto a dove è segnato invece evidenziato il minimo del ciclo da 18 giorni. Ma via alla sigla del canale e poi saremo subito insieme. Qui vedi le performance 25 punti sul DAX, 45 sul Nasdaq, 35 sul DAO, meno 277 sul Gold, significano 27 dollari in movimento e utilizzo i punti della metatrader. Ti invito anche a guardare anno su anno, 2343 punti nel 2023 e circa 7000 punti, poco meno per quanto riguarda il 2022, è stato un anno spaziale questo qua, nel 2021 quasi 4000 punti di profitto. In ognuno di questi anni ci sono stati dei mesi chiusi in perdita, quindi è importante, mi raccomando, sempre fare i conti alla fine dell'anno, non mai mollare dopo un mese, due mesi, tre mesi, perché si può anche incappare in quello che è il periodo negativo, tipo l'anno scorso e gli ultimi tre mesi li ho chiusi in loss, no, forse dicembre in profitto, esatto, di quasi niente, se guardate gli altri tre mesi precedenti in loss, però guardate che bel risultato alla fine dell'anno, nonostante tutto, 2343 punti. Chi è entrato a fine dell'anno si è cancellato, e questo ve lo posso dire con certezza, circa il 40% degli iscritti si è cancellati perché è entrato negli ultimi mesi e quindi non ha rinnovato l'abbonamento. Questo è un po' tipico del trader che è convinto che si debba sempre solo guadagnare, che è una perdita, non sia concepibile nei mercati finanziari. Peccato che il lavoro del trader è un lavoro difficilissimo, fare trading è difficilissimo, anche se fuori ovviamente ti fanno vedere che naviga girando con macchinoni da ovviamente da centinaia di migliaia di euro, girando in elicottero, vivendo tutti a Dubai, fare trading è una cazzata e chiunque lo può fare ed è questione di veramente niente. Sei libero di credere, sei libero di credere a quelle stronzate, oppure di credere a chi come me e molti miei colleghi e ti dicono che il trading è un lavoro difficilissimo e che perdere fa parte del lavoro. Segnale intraday, l'abbiamo visto, indicatore volto, invece per poter lavorare con il mio metodo ciclico avrai accesso alla formazione per quanto riguarda l'uso dell'indicatore e il canale Tegan di supporto, ma se vuoi c'è una bella promozione che scade questa sera, 35% di sconto, quindi anziché 1399, 999 euro avrai accesso al corso di analisi ciclica, 60 ore di formazione, corso di analisi volumetrica, oltre 10 ore di formazione ed è un corso veramente pratico, quindi oltre ovviamente a spiegare le teorie si parla di un corso totalmente a grafico, quindi imparerai molti pattern, molti utilizzi di strumenti che non vengono utilizzati e non capisco il perché non vengano utilizzati dalla maggior parte dei trader che usano i volumi. Indicatore Voltime appunto è una, diciamo, sorpresa, anche l'indicatore Aircycle Indicator sempre con un anno di licenza, che l'indicatore che utilizzavo prima è statico, non è automatico, ma è un ottimo strumento da abbinare all'indicatore e Voltime automatico. Via, partiamo con la nostra analisi, allora dicevo, partiamo dall'analisi ciclica, in questo caso l'onda sinusoidale è un'onda da 18 mesi, ok? Vado a levare un secondo, questo è l'altro indicatore a cui avrai accesso acquistando il corso, chiaramente licenza un anno. Vado a levare un secondo le due medie mobili e anche la envelope, così rimane un attimo più pulito il grafico. Ho tracciato, come puoi vedere, questo canale, canale che è stato quasi raggiunto dal MIB, mancano grossomodo 1.400 punti, ok? Più, punto più, punto meno, ovviamente. Non sono partito qua, per quale motivo? Semplicemente perché questa mega volatilità che c'è stata è andata a variare, ok? quella che era una durata più o meno logica o standard, quindi omogenea per quanto riguarda un ciclo da 18 mesi. Se vado ad impostare una varianza più grande, sto facendo casino, perché registrando troppa roba aperta e fa fatica il mio computer, il poveretto. Dicevo, se vado ad impostare una varianza del 50%, ok? Vedi che si vado ad allineare, perché va a prendere quello che è il minimo più giusto, ok? All'interno di una varianza concessa. 50%, l'ho sempre usata 50%, però avrei visto che nell'ultima analisi ho deciso di impostare a 20, per quale motivo? Perché voglio avere cicli più omogenei e con una durata più standard, più vicina a quella che è la durata standard e in questo caso è evidente che questo ribasso che c'è stato con il Covid sia un ribasso fuori statistica. Quindi è normale, è di giusto che il mercato sia andato fuori statistica. Quindi abbiamo avuto un movimento che si sarebbe potuto avere in un arco temporale più corretto, ok? Quindi un arco temporale con una durata media di 534 giorni, invece il minimo me l'ho andato a centrare qua perché poi c'è stato un forte recupero. Però a prescindere da quello io considero questo canale un canale da 18 mesi, infatti lo andremo anche a colorare di giallo, che è il colore che utilizzo per i cicli da 18 mesi. Ok, mi sa che sono diversi, vabbè, poco so. E vediamo che il mercato è quasi arrivato, quindi anche questa componente di ribasso in realtà è ancora corretta. Per quale motivo? Perché come vi spiego sempre, questa più o meno è la zona dove ci aspettiamo e che il mercato abbia direzionalità. Tutta quest'area invece rimane un'area dove il mercato inizierà la sua fase di risalita o in questo caso la sua fase di discesa, quindi spinta non ce n'è. Quindi vedi che se teniamo una linea verticale in realtà siamo giusti. Quindi siamo ancora in tempo per vedere una fase di ribasso che tra l'altro è prevista a chiudersi più o meno intorno al 3 di settembre, quindi 18 mesi veramente molto in là da chiudersi. Se andiamo anche ad aggiungere, vediamo un po' se me la fa mettere, se non si incasina tutto, poverino, ok. Se andiamo anche ad aggiungere una envelope, vedi che anche la envelope il mercato l'ha quasi raggiunta. Ovviamente la envelope è soltanto una proiezione, quindi vedi che qui è una linea retta, quindi se noi dovessimo immaginare il mercato che segue l'onda ciclica avremmo anche la envelope. La envelope è uno strumento che ci serve più o meno per avere un'idea di quanto il mercato si è mosso, quindi la sua volatilità, in questo caso significa in termini di punti quanto mediamente il mercato tende a muoversi circa 7.000 punti, quindi riusciamo anche a capire se siamo ancora in statistica o se siamo completamente fuori dalla statistica. In questo caso il mercato dal suo minimo si è mosso di 1.290 punti, quindi è andato ben oltre a quello che è il suo movimento. Quindi ci possiamo aspettare che stia per arrivare, ok. Infatti lo vedete che ha saltato completamente il picco che avrebbe potuto generare grossimodo quei numeri di punti e che normalmente il mercato va a fare, ok. Andiamo adesso su TradingView, anche se non c'è niente da dire perché non abbiamo opportunità di entrare short, ovviamente ancora, così come entrare long inizia a essere un po' tirato perché il mercato non swinga mai e anzi se andiamo anche a vedere adesso su TradingView ci accorgeremo che in realtà Fuzzimib eccolo qua vedete che ho lo stesso canale che lo vado a fare non ho un 18 mesi quindi facciamo così faccio veloce metto in pausa un attimo ok l'ho chiamato canale 18 mesi qui in realtà vedo che non tocca quindi va ho abbassato leggermente anche in questo caso siamo quasi arrivati sul canale c'è una cosa importante da vedere ok gli swing infatti se ben ricordate questi sono i target che io ho dato quindi primo target in area 33.753 perché non è nient'altro che la proiezione dell'ultimo swing che il mercato l'ha raggiunta l'ha anche superata ed è anche un buon livello di fibonacci diciamo un target 2 target 1 e target 2 in più vi dicevo entrare short cioè long adesso non ha logica perché non abbiamo uno swing non c'è un ritracciamento e se prendiamo l'ultimo swing in massima l'ultimo swing potremmo anche essere arrivati a destinazione vediamo un po' esatto vedi che siamo arrivati e quindi io mi aspetto che il mercato ritracci un po' di più o poi ci mancherebbe in caso di rottura in realtà lui un po' di ritracciamento lo ha fatto mi è dato anche sotto le mie medie non si è mai avvicinato purtroppo neanche alla media mobile intermedia che io utilizzo però a questo punto si potrebbe anche andare a centrare un rialzo in area 30.000 34.071 e cercare di tirare ovviamente fino alla trendline al lato superiore del canale quindi alla trendline rialzista a vedere un suo touch da un punto di vista candere non ci dice nulla il mercato abbiamo avuto qualche ombra lo vediamo sopra ai corpi ma anche questa ombra sotto al corpo se io vado a vedere come sono posizionate queste candele mi verrebbe da dire che il mercato sta cercando di scendere perché vediamo che le ombre sopra ai corpi sono più lunghe rispetto alle ombre sotto ai corpi che sono stati inesistenti esclusa la candela del 24 di marzo quindi qua effettivamente il mercato sta lavorando e vedete come la ripetizione degli swing è importante da prendere in considerazione perché è molto affidabile andiamo un po' qui probabilmente è andato anche un po' forno vedete che anche qua nonostante il mega gap che c'è stato il mercato ha assolutamente reagito in quelle che sono le dimensioni medie degli swing intermedi che poi si tratta ovviamente di analisi ciclica perché se io vado a prendere il mio indicatore e vado a mettere cicli più piccoli vedrete che si parla di cicli da 20 giorni i vari swing ciclo da 20 giorni ciclo da 20 giorni ok ciclo da 20 giorni ciclo da 20 giorni ma questo è stato il più piccolo questi che sono tutti uguali tutti cicli da 20 giorni ciclo da 20 giorni è quasi arrivato quasi arrivato quindi entrare long anche dal punto di vista statistico inizia ad essere un po' sul tirato andante quindi mi avviso la cosa più di messaggi che ci dicono facciamo attenzione ne abbiamo molti tante ombre sopra alle candele ciclicamente siamo arrivati su ciclicamente scusatemi che qui c'è ancora il vecchio settaggio ciclicamente siamo arrivati sul picco quasi del ciclo da 20 giorni vero che abbiamo ancora un po' di tempo però teniamo presente che oggi è il 16 il 17 quindi verranno a mancare due candele quelle di sabato e di domenica e quindi questa data sostanzialmente si sta avvicinando io personalmente anche tenendo conto di quello che abbiamo visto come swing non andrei a posizionarmi ulteriormente a rialzo anche se uno stop loss ridotto obiettivamente potrebbe addirittura garantire un rischio rendimento interessante perché potremmo fare avere un rischio rendimento del genere quindi avere un ingresso è uno stop di 340 punti a fronte di 890 quasi 900 punti quindi quasi un rischio rendimento un altro è ovvio che se il mercato dovesse rompere questi massimi il target sarà il gioco forza e bisognerà tirare per forza al canale superiore quindi c'è il lato superiore del canale quindi a voi la scelta io onestamente per le ombre che ho visto su queste candele rimarrei più alla finestra però è un mercato totalmente drogato non so da cosa ma è un mercato evidentemente completamente fuori da ogni statistica quindi un rialzo perché no lo si potrebbe ancora andare a prendere ciao ciao buona sanata